L'ho trovato! Mi dici per chi è la torta o devo indovinare io? Stefani. Quanti anni fa? Cinque? No, ne compie sei. Sei? Goditela finché puoi, amico. Fra un po' sarà troppo tardi. Farò tutto il possibile, tranquillo. Come sta, amici? Sono preoccupato per lei. Jules, sta tranquillo, hai in gamba. Sì, è vero, sì. No! Papà! Papà! Adoro che c'è? Mi stanno inseguendo! Di che stai parlando? Nicky, aspetta, calmati, qual è il problema? Tommy! Oh mio Dio! Guardate! Eccola qui! Calmi! Se state calmi non vi faremo niente! Uscite subito dal mio negozio! Papà! No! Vuoi fare l'eroe anche tu, come quell'idiotto del tuo amico? Sei una bambina dispettosa, a prendere in giro Boris in quel modo. Vieni qui. Aiutami, ti prego, non voglio andare con loro. Allora, sbrigati. Lasciatemi fuori. Io... Allora, sbrigati! 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 Jules, Miki, chiamati.